Buonasera a tutti, vi presenteremo, tirare le palle di neve alla seggiovia che vi ha incontro come si può vedere nell'altra seggiovia sono tutte piene, noi siamo caricati di neve per fare questa cosa dovete riempire le vostre tasche di neve prendere un po' di carta igienica, poi carta igienica e colla vinilica vi dettate di buona mira e... cazzo non ti fuma oh questo è un peggio io sto morendo, mi fa troppo male questo è detto strunz io sto morendo oh Dio oh Dio oh Dio eh la fermi no però ma questi mi stanno soccati questi? allora morirete quello è il badiglia? no è venuta fatta oh Dio oh Dio oh Dio oh Dio oh Dio